Buonasera Avellino, buonasera Avellinesi, eccoci ritrovati al nostro consueto appuntamento del lunedì. Un po' di notizie che ci vengono da questa settimana. Innanzitutto direi di parlare nella riapertura di Parco Santo Spirito, una riapertura che era attesa da parte di molti di voi che ci hanno chiesto, mi hanno chiesto spesso nelle scorse settimane, di poter utilizzare finalmente e nuovamente questa distesa di verde che tanto viene utilizzata dalla nostra comunità. Abbiamo uno stupendo Parco, innanzitutto comincio un po' a salutare gli amici e le amiche che si stanno collegando. Ho notato che c'è sempre grande attenzione rispetto a questo appuntamento settimanale e io sono contento che sia seguito il mio intervento dal quale cerco anche di recepire alcune indicazioni che voi puntualmente mi fornite. Dicevo, rispetto alla questione Parco Santo Spirito c'era, parliamo di una riapertura attesa, c'era anche la voglia finalmente di tornare a fare delle stupende passeggiate lungo il Parco. Finalmente l'abbiamo un po' sistemato, chiaramente lo dico a quelli che hanno subito segnalato qualche disguido. È evidente che non è tutto a posto al 100%. Per carità, abbiamo rimesso a posto comunque circa 120.000 metri quadrati di verde, un numero impressionante, per fortuna di verde urbano. Abbiamo messo in sicurezza una sponda dopo che c'era stato uno smottamento e attendiamo ancora 500.000 euro per ultimare l'intervento che abbiamo iniziato e che ci consentirà di mettere in sicurezza la sponda fino all'altezza del ponte. Abbiamo già organizzato i lavori per illuminare il ponte, sarà bellissimo, l'ingresso nel parco e già si comincerà a vedere dal ingresso proprio del Santo Spirito questo ponte illuminato, molto bello, anche per certi versi molto romantico. Inoltre, in settimana delibereremo la realizzazione di un murales molto molto caratteristico che ci ricorderà anche la questione Covid, oltre che ci sarà un senso di comunità, un senso di affetto e un regalo che anche col settore cultura vogliamo fare alla nostra comunità, un regalo che prende anche spunto dalla proposta di alcuni artisti, importanti artisti locali. Sarà un murales molto evocativo. Nei prossimi giorni la Giunta delibererà la realizzazione di questa di fatto opera d'arte che arricchirà ancora di più le risorse del parco e lo renderà ancora più bello. E poi stiamo lavorando nell'immediato per sistemare anche le giostrine, c'è qualche staccionata, ci mancherebbe, c'è qualche piccolo intervento, ma era talmente tanto. La voglia e la richiesta da parte della gente di poter finalmente usufruire ancora una volta del parco Santo Spirito che abbia fatto di tutto, ringrazio anzi per il grande impegno, gli assessori Negrone e Genovese in particolar modo, ma anche Giacobbe si è dato molto da fare e poi stiamo lavorando in prospettiva, perché vogliamo che il parco Santo Spirito diventi un vero e proprio attrattore turistico, diventeremo riferimento turistico in campane. Non sto scherzando, guardate, non sto esagerando, abbiamo una grandissima risorsa. Io non voglio solo limitarne l'utilizzo alla nostra comunità o ai nostri cugini dei comuni vicini. L'obiettivo concreto, serio, è quello di far diventare il parco Santo Spirito una vera e propria meta, turistica, turistica almeno campana e vi assicuro che nelle prossime settimane vi presenteremo il progetto e rimarrete entusiasti di quello che abbiamo in mente. Sarà una cosa bellissima, spettacolare, mai vista prima ad Avellino e sono convinto che grazie a questo intervento riusciremo ad attrarre l'attenzione di tantissimi concittadini campani e daremo nuova vita e una iniezione anche di vitalità al nostro splendido parco urbano.